Buonasera, benvenuti da Fish Therapy. Io sono Katia, la biologa che vi seguirà durante questa particolare esperienza. Questa settimana vi parlerò di Fish Wellness. Vediamo ora la prima fase del trattamento. In cosa consiste? Molto semplice, io vado ad osservare le parti che andranno immerse nelle nostre vasche. È importante che non vi siano micosi, onicomicosi e lesioni, lesioni del tipo ferite sanguinanti. Un'altra fase importante è il lavaggio delle parti che appunto verranno interessate dal trattamento. Com'è l'acqua? Va bene. Ovviamente per ogni cliente c'è un kit monouso, sia di ciabattine sia di asciugamani. Ed ora passiamo al trattamento vero e proprio. Adesso è molto importante che la signora introduca lentamente i piedi in vasca. Durante il trattamento è molto importante non giocare coi piedi, quindi non muoverli, perché questo equivalrebbe a prenderli a schiaffi e ovviamente sono un fattore che portano a rischio di morte i pesci. Il trattamento coi gararufa è un trattamento a 360 gradi, di wellness in tutto e per tutto, perché non è soltanto un trattamento estetico. Sì, sicuramente abbiamo questo scrub naturale, la pelle quindi risulta molto più luminosa, però esistono tutta una serie di altri effetti molto positivi sull'organismo. Allora, prima di tutto eseguono un micromassaggio, involontariamente, mentre si cibano appunto delle scaglie di pellicine morte, cuticole, e questo micromassaggio va ad influire in maniera positiva sul microcircolo, aumentando quella che è l'ossigenazione dei tessuti. Un altro effetto importante è quello defatigante sul piede, infatti il piede e la caviglia, nel caso fossero gonfi, ecco che si sgonfiano, ritrovano la leggerezza. I gararufa sono dei pesci curativi, tant'è vero che all'estero sono i dermatologi stessi a consigliare a chi ha problemi di pelle come psoriasi, dermatiti, e ezemi, trattamenti ravvicinati proprio con il gararufa. La motivazione? A livello delle mucose labiali il gararufa produce un enzima, questo enzima si chiama ditranolo e induce la rigenerazione cellulare, contrasta i radicali liberi. Sotto alle sedute esiste un filtro meccanico, un filtro biologico e una lampada UV che va a sterilizzare l'acqua. I nostri gararufa non vengono assolutamente strappati a quelli che sono i loro ambienti di origine, quindi dall'ambiente naturale, ma provengono da allevamenti. I gararufa sono pesci d'acqua dolce, tropicali, infatti le nostre vasche sono tenute a una temperatura di 26-27 gradi, perché questa ovviamente è la temperatura a loro congeniale. Ed ora vado ad applicare la nostra crema Rituals, allo Yigli Ren e menta, è una crema idratante e rinfrescante. Ecco il momento della tisana. La tisana è uno dei nostri prodotti in vendita, appartiene alla linea di Rituals, è una tisana rilassante e la particolarità è che le bussine in cui sono raccolte le foglie, in questo caso è una mistura di erbe, amice stellato e liquirizia, è una busta in organza elegante. E poi abbiamo l'Esepissier, dove è possibile trovare una serie di prodotti molto interessanti, ad esempio la linea Bimbi, dove abbiamo queste due ceramiche con l'essenza al talco e con queste ceramiche possiamo ad esempio profumare i cassetti. E allora che altro dire? Vi aspetto e buona